Boylan parlava della forma del mio piede. L'ho to' subito, anche prima di essermi presentato. Quando ero il DBC, con Poldi, rideva e cercava di tenderlo orecchio. Muovevo il piede. Avevamo ordinato tutti e due due tè e pane e burro. Lo vidi guardare con quelle due zittellone di sorelle quando mi alzai e chiesi alla ragazza dov'era e che me ne importava. E quelle mutande nere, chiuse, che mi ha fatto comprare. Ci vuol mezz'ora per calarle. Mi bagnavo tutta. Una settimana sì e una no, un nuovo ghiribizzo. E ne feci tanta. E poi lasciai i guanti di camoscio sul dietro dell'asseggetta, che non li ho più rivisti. Qualche ladra di donna. E lui voleva che lo mettessi nell'Irish Time, perduti nel gabinetto di DBC. Dumb Street. Chi li trovasse è pregato di restituirli a Mrs. Marion Bloom. E vedi che mi sbirciava i piedi mentre uscivo attraverso la porta a bussola. Guardava ancora quando mi voltai. E io tornai lì a prendere il tè due giorni dopo, nella speranza di... Ma lui non c'era. Come lo eccitavano. Forse perché le incrociavo quando arrivamo nell'altra stanza. Prima lui voleva dire le scarpe, che sono troppo strette per camminarci. La mia mano è graziosa. Solo che avesse un anello con la pietra del mio mese di nascita. Una bella acqua marina. Le ne scroccherei una. Un braccialetto d'oro. Non mi pare tanto bello il mio piede. Pure l'ho fatto godere col piede. Una volta. La notte di quello schifo di concerto di Goodwin. Tanto freddo e vento. Manco male. C'era del room in casa per fare il poncino. E il fuoco non si era spento del tutto. Quando mi chiese di levarmi le calze stese sul tappeto davanti al caminetto in Lobar Street. Beh. E un'altra volta erano le mie scarpe fangose. Volevo a che camminassi su tutta la merda di cavallo disponibile. Ma si capisce. Non è normale come tutti. Che io... Cosa diceva? Che io potevo dare nove punti di vantaggio su dieci a Katie Lanner e batterla lo stesso. Che significava? Gli chiesi. Non mi ricordo cosa disse. Perché l'ultima edizione era appena uscita. E quel riccioluto della latteria Lucan che è tanto carino. Credo ad avere già visto la sua faccia da qualche parte. Non lo dai mentre assaggiavo il burro. E allora me la pregi a comodo. Anche Bertel D'Arcy. Che lui pigliava in giro. Sì, anche lui. Cominciò a baciarmi sugli scalini del coro dopo che avevo cantato l'Ave Maria di Gounod. Cosa aspettiamo, mio tesoro? Baciami subito sulla fronte. E in quel posto che è scuro, era parecchio caldo. Nonostante quella voce da Raganella, le mie note basse lo mandavano sempre in visibilio. A sentir lui mi piaceva la bocca che faceva quando cantava. Poi disse che era orribile far quella cosa in un posto come quello. Non ci vedo niente di orribile. Un giorno glielo voglio raccontare per farlo restare a bocca aperta. Ora no. E come? E ce lo porterò e gli farò vedere proprio il posto dove lo abbiamo fatto. Ecco qua. Bere o affogare? Crede che non possa succedere nulla senza che lui lo sappia. Non aveva un'idea di mamma prima che ci si fidanzasse. E no, non mi avrebbe avuta per così poco. Lui era dieci volte peggio. Comunque mi scongiurava di dargli un pezzettino di mutande. E' stata la sera in cui passava da Kenworth Square. Mi baciò l'occhiello del guanto. E mi toccò levarmelo. E a farmi domande. E se era lecito sapere com'era la mia camera da letto. E allora glielo lasciai tenere. Come se lo avessi dimenticato. E pensare che lo vidi benissimo. Che se le infilava in tasca. E poi va pazzo per le mutande. Si vede benissimo. Sempre a sbirciare quelle sfacciate in bicicletta. Con le sottane in su fino al bellico. Anche quando era fuori con me. E con Miglia. Quella festa all'aria aperta. Quella con mussolina color crema. Che stava in piedi contro luce. Così lui le vedeva ogni cosa che aveva addosso. Quando mi guardava di dietro. Seguendomi sotto la pioggia. Io lo vidi prima che lui vedesse me. Comunque. Fermo a un angolo del crocicchio di Harrods. Con l'impermeabile nuovo. Addosso a una sciarpa alla zingara. Per far risaltare la carnagione. Il cappello marrone. Con la solitaria furbacchiona. Cosa faceva lì. Non era affar suo. Possono prendersi tutto quel che vogliono. Da una sottana. E manco gli puoi dire qualcosa. Loro però. Vogliono sapere dove sei stata. Dove vai. Me lo sentivo dietro che mi pedinava. E mi teneva gli occhi fissi sul collo. Si era tenuto lontano da casa. Capiva che il terreno cominciava a scottare. Allora mi voltai a metà. E mi fermai. E prese a tempestarmi perché dicessi di sì. Finché mi levai il guanto pian piano guardandolo. Disse che le mie maniche traforate non tenevano caldo con la pioggia. Qualsiasi scusa buona per mettermi le mani addosso. Mutande. Mutande. Tutto il tempo benedetto. Finché non gli promisi di dargli quel paio della bambola. Da portare in giro nella tasca del panciotto. Oh Maria Santissima. Che aria da stupido. Gocciolante sotto la pioggia. Che bei denti aveva. Faceva venire fame a guardarli. E mi scongiurava di alzare quella sottoveste arancione. Pichettata a campana. E non c'era nessuno. Diceva che si sarebbe inginocchiato sotto la pioggia. Se io no. Così cocciuto da farlo sul serio. E rovinare l'impermeabile nuovo. Non si sa mai cosa gli piglia a restare soli con noi. Sono così affamati. Se fosse passato qualcuno. L'ho tirata un po' su. E gli ho toccato i pantaloni dal di fuori. Come facevo a Gardner. Poi con la sinistra. Per impedirgli di far peggio dove c'era troppa gente. Morivo dalla voglia di vedere se era circonciso. Tremava come gelatina dalla testa ai piedi. Voglio un fare tutto troppo alla svelta. Si perde tutto il piacere. E papà che intanto aspettava la cena. Mi disse di dire che avevo lasciato il portamolette dal macellaio. E che ero dovuta tornare a prenderlo. Che imbroglione. Poi mi scrisse una lettera con tutte quelle parole. Come faceva ad aver la faccia tosta con qualsiasi donna. Dopo le sue maniere di uomo di mondo. Rendendo la cosa così imbarazzante. Dopo quando ci rincontrammo. E mi chiese. Mi ha forse offese. Io con gli occhi bassi. Si capisce. Vede benissimo che non aveva un po' di sale in zucca. Non come quell'altro sciocco di Harry Doyle. Che strappava o rompeva sempre qualcosa durante le scerade. Non posso soffrire da gente maldestra. E se sapevo quel che voleva dire. Naturalmente dovetti dire di no. Per la forma. Dissi. Non vi capisco. Non era forse naturale. E certo che lo era. Sempre scritto sul muro con la figura di una donna. A Gibraltar con quella parola che non riuscì a trovare in nessun posto. Solo che i bambini non la vedessero. Troppo giovani. Allora scriveva una lettera tutte le mattine. Qualche volta due al giorno. Mi piaceva. Come faceva all'amore. Poi sapeva come si prendono le donne. Quando mi mandò quegli otto grandi papaveri. Perché ero nata all'otto. Allora scrissi. La sera che mi baciò sul cuore. A Dolphins. Non saprei descriverlo. Solo che ti fa sentire. Una cosa dell'altro mondo. Ma lui non sapeva abbracciar bene come Gardner. Spero che tornerà lunedì. Come ha detto. Alla stessa ora. De quattro. Non sopporto la gente che viene a tutte le ore. Rispondere alla porta. Pensi sia alla verdura. Poi è qualcuno. E tu sei tutta svestita. O la porta della cucina. Sudicia. Lercia. Che s'apre da sé. Quel giorno che quella quaresima di Goldwyn venne a farmi visita. Per il concerto in Nobar Street. E io subito dopo pranzo. Tutta rossa e spettinata. A forza di far cuocere lo stufato. Non mi guardi professore. Mi toccò dire. Solo uno spaventapasseri. Ma sì. Lui era un vero signore. A modo suo. Era impossibile essere più rispettosi. Spettosi. Nessuno. A dire che non ci sei bisogna guardare dalla tendina. Come il fattorino. Oggi da prima credetti che rimandasse la visita. Quel mandare il porto e le pesche in anticipo. E cominciavo già a sbadigliare con un po' di nervi. Pensando che cercava di canzonarmi. Quando riconobbi il suo. Tat-taradà. La porta. Doveva essere un po' in ritardo. Perché erano le tre e un quarto. Quando vedi tornare da scuola le due ragazze. Daedalus. Non so mai l'ora. Anche quell'orologio che mi ha dato. Non va mai bene. Pare bisognerebbe farlo riguardare. Quando tirai il penni a quel marinaio zoppo. Per l'Inghilterra la casa e la beltà. Quando fischiettavo. C'è una bella ragazza che amo. E non mi ero neanche messo la camicia pulita. Né data la cipria né altro. Allora. Oggi. A otto. Si deve andare a Belfast. Ottima cosa che lui debba andare a Ennis. Anniversario di suo padre. E ventisette non sarebbe piacevole. Che lui. Mettiamo che le nostre stanze d'albergo fossero vicine. E facessimo qualche sciocchezza nel letto nuovo. Non gli potrei dire di smettere. E di non seccarmi con lui nella stanza accanto. O forse quel pastore protestante con la tosse. Gusserebbe al muro. E allora non crederebbe il giorno dopo. Che non abbiamo fatto nulla. Va bene col marito. Ma all'amante non la si fa. Dopo che gli ho detto che non si faceva mai nulla. E si capisce che non ci ha creduto. No. È meglio che vada dove va. E poi succede sempre qualcosa con lui. Quella volta che si andava al concerto. Ordinò una minestra bollente per tutti e due. Poi suonò il campanello. È lui che ti va lungo la pensilina. Con la minestra che schizzava fuori. Prendendone fuori cucchiaiate. Che faccia di corno. È il cameriere dietro a lui. Che ci fece fare una figura. E gli strigli. E la confusione. Che la macchina partiva. Ma non volle pagare prima d'aver finito. I due signori. Nello scomportimento di testa classe. Dicevano che aveva tutte le ragioni. E così era. È così testone alle volte. Che si caccia in mente qualcosa. Ma meno male che gli riuscì di aprire lo sportello col temperino. Se no ci portavamo fino a Cork. Mi dà l'idea che l'avevano fatto per vendicarsi. Mi piace fare le gite in treno o in carrozza. Con dei bei cuscini morbidi. Chissà se mi prenderà la prima classe. Potrebbe avere intenzione di farlo in treno. Dando una buona mancia al controllore. Oh. Mi dà l'idea che ci sarà quel solito branco di idioti a tenerci gli occhi addosso. Stupidi quanto è possibile esserlo. Era un uomo straordinario. Quel semplice operaio che ci lasciò soli nello scompartimento. Quando si andò a Hout. Mi piacerebbe sapere qualcosa di lui. Una o due gallerie forse. Poi bisogna guardare fuori dal finestrino. E poi è anche meglio al ritorno. Supposto che non tornassi. Cosa ne direbbero? Scappata con lui. Quello che ti fa andare avanti sulle scene. L'ultimo concerto che cantai. Dove è stato? Più di un anno fa. Quando è stato? Sala Santa Teresa. Clarendon Street. Ora non c'è altro che ragazzina che cantano Kathleen Kearney. Una roba del genere. Perché papà è nell'esercito. E io cantai il mendicante distratto. E portavo la spilla per Lord Roberts. Quando avevo la carta di tutta la guerra. E poldi non abbastanza irlandese. Era stato lui a organizzare tutto quella volta. Non ci metterei la mano sul fuoco. Come quando mi fece cantare nello Stabat Mater. Andando a dire che stava musicando giudaici dolce luce. E l'avevo messo in testa io. Finché i gesuiti non scoprirono che era massone. E stava sul piano Guidami tu. Copiato da qualche vecchia opera. Sì. E di recente andava in giro con qualcuno di quei Zimfain. Come diavolo si chiamano. A raccontare le solite buggerate. Dice che quell'omino senza collo che mi ha fatto vedere. È molto intelligente. L'uomo dell'avvenire. Come si chiama? Griffith. L'aria però non ce l'ha. E non posso dire altro. Però doveva essere stato lui. Sapeva che c'era un boicottaggio. Non posso neanche sentirne parlare di politica. Dopo la guerra Pretoria e Ladysmith e Blaine Fontaine. Dove Gardner, Tenente Stanley. G. Ottava Brigata Secondo Reggimento Lanceri del Lancashire. Di dissenteria. Era un bel ragazzo in cachi. E più alto di me è quel tanto. E non son sicura che era anche coraggioso. Disse che ero carina la sera che mi dette il bacio d'addio. Alla chiusa del canale. Oh mia bella Irlandesina. Era pallido per l'eccitazione della partenza. Ma perché ci avrebbero potuto vedere dalla strada? Non si reggeva bene in piedi. E io, calda come non mi era mai capitato. Avrebbero potuto far la pace da principio. Ma il vecchio zietto Paul e tutti gli altri vecchi Kruger, se la fossero combattuta loro, la guerra, invece di tirare avanti per anni, ad ammazzare tutti quei bei ragazzi con la dissenteria. Se almeno gli avessero sparato. Sarebbe stato un po' meglio. Mi piace di veder sfilare un bel reggimento. La prima volta che vedi la cavalleria spagnola alla Roche era bello dopo guardare dall'altra parte della Baia, dal Gesiras, tutte le luci della rocca come lucciole. E quelle grandi manovre sui quindici acri. E guardie nere coi gonnellini ondeggianti in cadenza alla sfilata. Il decimo Ussari, quello del principe di Gals, o i lanceri, o i meravigliosi lanceri, o il Royal Dublin, che conquistarono Tugsela. Suo padre ha fatto i quattrini rivendendo cavalli alla cavalleria. Beh, mi può benissimo comprare un regalino a Belfast, dopo quello che gli ho dato. Hanno della biancheria finissima lassù. Oppure uno di quei bei chimoni. Bisogna che compri un po' di naftalina, come quella che avevo, per metterla nel cassetto. Sarebbe eccitante andare in giro con lui a fare spese, a comprare quelle cose in una città nuova. Meglio lasciare quest'anello a casa, bisogna girarlo e rigirarlo, per farlo passare sopra la nocca. Se no, c'è caso che suonino un'allarme sui giornali, per tutta la città, o mi denunciano alla polizia. Ma crederebbero che siamo sposati. Oh, ma che vadano un po' tutti a farsi friggere, per quel che me ne importa, ha un sacco di soldi, e poi non è tipo ad apigliar moglie. Bisogna pure che qualcuno gliene peli un po'. Se potessi scoprire se gli piaccio o no, avevo l'aria un po' sbattuta quando mi sono guardata da vicino in quello specchietto, nel darmi la cipria. Uno specchio non ti dà mai l'espressione, e poi tutto il tempo apponzarmi addosso, in quel modo, con quelle ossa mastodontiche del bacino. È pesante. E poi quel petto peloso, con questo caldo. Doversi metter giù per loro, è meglio che me lo metta dal di dietro, in quel modo come Mrs. Matiansky mi disse che le faceva fare il suo marito proprio come i cani, e tirar fuori la lingua più che poteva. E lui, con quell'aria dolce e tranquilla, e quella cetra che fa tin tin, non ce la fa mai con gli uomini, con tutto quel che gli salta in testa. Bella stoffa quel completo azzurro che aveva, e la cravatta stile, e le calze con quegli affari di seta azzurrocello ricamati sopra. Se la passa bene, di certo. Lo vedo dal taglio dei vestiti, e quel grosso orologio. Ma sembravano indemoniato per qualche minuto, dopo che era tornato con l'ultima edizione, strappando i biglietti e mandando tutti al diavolo, perché aveva perso venti sterline. Diceva di aver perso per quell'outsider che aveva vinto, e la metà ce l'aveva messa per me, su consiglio di Lenean. Lo mandava fino in fondo all'inferno. Quello scroccone si prendeva delle libertà con me, dopo il pranzo di Glinkry, tornando durante quel trabellio che non finiva più sul monte del letto di piume, dopo che il sindaco mi aveva guardato con quegli occhi da porco, e Val d'Ion, quel grosso scheranzato. Ho notato la prima volta al dessert, mentre schiacciavo le noci coi denti. Morivo dalla voglia di succhiarmi uno per uno gli ossi di quel pollo con le mani. Era così buono, ero solato e tenero, solo che non volevo mangiare tutto quello che c'era nel piatto. E poi quelle forchette posate da pesce, erano d'argento massiccio. Me ne piacerebbe qualcuna. Ne potevo anche infilare un paio nel manicotto, giocherellandoci, sempre dipendere da loro per i soldi al ristorante, per ogni boccone che ti cacci giù, dobbiamo essere grate anche per una rognosa tazza di tè, come se fosse un gran favore. Guarda com'è diviso il mondo, in ogni caso, se la cosa deve andare avanti, voglio almeno altre due belle camicie. Per cominciare però, non so che tipo di mutande gli piace, mi sa che preferisca niente del tutto. L'ho anche detto, sì, e metà delle ragazze di Cibilterra non ne portavano, nude come Dio le ha fatte. Quell'andalusa che cantava la sua manola non faceva mistero di quel che non aveva. Sì, e quel secondo paio di calze, imitazione seta, che si sono smagliate dopo un giorno che le portavo. Ne avrei potute riportare da Levar stamani e fare una scenata e farmele cambiare, se non fosse stato per non agitarmi e correre il rischio di intopparlo e rovinare tutto. E mi ci vorrebbe uno di quei busti che calzano come guanti, offerto a buon prezzo nella donna elegante, con soffietti elastici sui fianchi. Lui ha racconciato quell'unico che mi resta. Ma non serve a nulla. Cosa diceva? Che conferisce una linea deliziosa per undici sesti, ovviando la spiacevole impressione di ampiezza sotto le reni, diminuendo il grasso. Ho messo un po' di pancia. Dovrò abolire la birra, desinare. Oppure ci piglio troppo gusto. L'ultima che hanno mandato a Ururk era una risciacquatura di piatti. Fai soldi facile, Larry. Come lo chiamano? Che regalo micragnoso ha mandato per Natale. Un dolce casalingo e una bottiglia di sbroda che faceva passare per Chiaretto. non era riuscito a farla bere a nessuno. Dio gli risparmi la saliva che non abbia a morire di sete. Oppure bisogna che faccia un po' di esercizi respiratori. Chissà se quel dimagrante serve a qualcosa. Potrebbe anche essere troppo. Le donne magre non sono più tanto di moda. Quanto a Giarettiere ho un bel paio viola che portavo oggi. È tutto quel che mi ha comprato con l'assegno che mi ha riscosso. Il primo... Oh no! C'è stata la lozione facciale che ho finita ieri. È mai rimesso a nuovo la pelle? Gli ho detto e ripetuto falla rifare allo stesso negozio e non ti dimenticare! Dio solo lo sa se l'ha fatto o no. Dopo tutto quel che gli ho detto me ne accorcerò dalla bottiglia. Comunque se no mi dovrò lavare con la pipì come brodo grasso e brodo di pollo con un po' di quello poponaxe violetta che ho visto che cominciava a farsi un po' ruvida e vecchia la pelle. Di sotto è più fine, là dove si è spellata sul dito dopo la bruciatura. È un peccato che non sia così dappertutto. Quei quattro miserabili fazzoletti. Sei in tutto giù di lì. Ma certo che non si può andare avanti a questo modo senza stile. Tutto se ne va per il mangiare e per l'affitto. Quando ne avrò un po' li farò correre con tanto di stile, ti dico io. Sempre ho una voglia pazza di buttare una manciata di tè nella taiera. Lui a contare le foglie e misurar tutto anche se compro un par di scarpacce all'antica. Ti piacciono le scarpe nuove? Sì. Quanto sono costate? Non ho niente da mettermi addosso. Completo marrone e gonna e giacchetta. E l'altro dal tintore. Tre. Che cos'è per una donna ritagliare un cappello vecchio o rattopparne un altro? Gli uomini non ti guardano e le donne cercano di pestarti i piedi perché sanno che non hai l'uomo e poi con tutto che rincara di giorno in giorno e i quattro anni che mi restano ancora per arrivare ai trentacinque no quanti ne ho saranno trentatré a settembre vero mi pare? Vabbè piglia Mrs. Colbright è molto più vecchia di me l'ha vista quando sono uscita la settimana scorsa la sua bellezza è in declino era una bella donna magnifica capigliatura le arrivava alla vita la gettava indietro a quel modo prima cosa che facevo ogni mattina guardar di faccia per vederla lì a pettinarsi come se le piacesse tanto e ne fosse tutta presa peccato che arrivai a conoscerla solo il giorno prima di andar via è quella Mrs. Langtree il ciglio di Jersey se n'era innamorato il principe di Galles io dico che è come il primo venuto a parte il nome di re non tutti falsi allo stesso modo quello di un negro però mi piacerebbe provarlo bello fino a che età ah quarantacinque c'era una storia buffa sul vecchio marito geloso di che si trattava e un coltello da ostri che lui andava no le faceva portare addosso un aggeggio di latta e il principe di Galles sì aveva un coltello da ostriche non può essere vera una cosa del genere come uno di quei libri che mi porta le opere di Mastro François tal dei tali che dicevano fosse un prete a proposito di un bambino nato da un orecchio perché il budello del posteriore era uscito di fuori bella parola dalla penna di un prete e il suo culo come se qualsiasi imbecille non sapesse cosa voleva dire non posso soffrire tutte quelle finzioni con quella faccia da vecchio farabutto tutti vedono benissimo che non è vero e quella storia di rubi e le belle tiranne che me l'ha portata due volte mi ricordo quando arrivai a pagina 50 quella parte dove lei la pende a un uncino con una corda flagellare non c'è niente che possa tirare una donna lì dentro tutta roba inventata con lui che beveva champagne nella pantofola di lei dopo che era finito il ballo come il bambino Gesù nel presepio tra le braccia della santa vergine certo che da nessuna donna si potrebbe cavare fuori un bambino grosso in quel modo e io da principio credevo le fosse uscito dal fianco perché come faceva a mettersi sul vaso quando aveva bisogno e lei è una signora ricca naturalmente si sentiva onorata S.A.R. era a Gibilterra l'anno che sono nata io scommetto che ha trovato dei gigli anche là dove ha piantato l'albero ha piantato anche qualcosa di più ai suoi tempi avrebbe potuto piantare anche me se fosse venuto un pochino prima avrebbe potuto piantare anche me se fosse venuto un pochino prima ora non sarei qui dovrebbe lasciare quel freeman per quei quattro soldi che ne cava e andare in un ufficio o qualcosa del genere dovrebbe uno stipendio regolare o in una banca dove lo metterebbero su un trono a contare soldi tutto il santo giorno naturalmente lui preferisce bigallonare per la casa così non si può neanche alzare un dito sempre alle costole che programma hai oggi? preferirei fumasse la pipa come papà ci sarebbe almeno un po' un po' di odore d'uomo oppure girella qua e là facendo finta di cercare annunci pubblicitari quando poteva rimanersene da mister cuffie se non fosse per quel che combinò poi mandò me per cercare di accomodare i cocci l'avrei potuto far promuovere a direttore la una volta o due mi ha dato una gran mirada prima era freddo come il ghiaccio davvero veramente mrs bloom solo che mi sentivo completamente a terra con quello straccio di vestito di cui persi i piombini della coda e poi non aveva linea ma ora torna di moda l'ho comprato solo per fargli piacere avevo visto delle rifiniture che non erano granché peccato che ho cambiato idea e sono andata da Todd e Barnes come avevo detto invece da lì era una spelonca di negozio e quella liquidazione un mucchio di porcherie non posso soffrire quei negozi di lusso mi danno ai nervi e non c'è nulla che mi butti giù a quel modo solo che lui crede di sapere un sacco di cose sui vestiti delle donne e sulla cucina ci caccia dentro tutto quel che gli capita a tiro sulle mensole se stessi a sentir lui qualsiasi cappello che provo mi sta bene si prendi quello che va benissimo quello che sembra una torta nuziale alta un par di miglia sulla testa lui diceva che mi stava bene con quella pignatta che ricadeva giù sulla schiena e lui col fuoco al sedere per quella commessa in quel negozio di Grafton Street dove mi venne l'inferice idea di portarlo e la insolente quant'altre mai con quel sorrisetto e lui a dire che ci spiace darle tutto questo disturbo e lei che ci sta a fare allora ma io l'ho mangiata viva con un'occhiata sì era freddo maledettamente e sfido io ma cambiò registro dopo avermi guardata una seconda volta poldi testardo come un ciucco come al solito ma mi sono accorta che mi guardava fisso il petto quando mi alzò per aprirmi la porta fu molto carino ad accompagnarmi all'uscita sono spiacentissimo Mrs. Bloom mi creda senza accentuar troppo la prima volta che lui era stato insultato e io considerata sua moglie dopo tutto ha sorriso appena so bene che il mio petto sporgeva in fuori in quel modo alla porta quando ha detto sono spiacentissimo e sì credo sì credo che li abbia fatti diventare più so di lui a forza di succhiarli in quel modo per tanto tempo che mi faceva venire sete lui li chiama tettine non potrei fare a meno di ridere sì questo comunque la punta si rizza così poco non gli farò perdere l'abitudine e prenderò quelle uova sbattute col marsala per ingrassarli per lui cosa sono tutte quelle vene e quelle altre cose buffo il mondo come fatto due uguali in caso di gemelli dice che sono l'emblema della bellezza messi lassù in cima come quelle statue al museo una di loro fa finta di nasconderseli con la mano sono così belli certo in confronto di come appare un uomo con quei due sacchetti pieni e quell'altro affare che penso laggiù o ti si rizza sotto il naso come un piolo da attaccapanni non mi meraviglio che se lo coprano con una foglia di cavolo la donna e la bellezza è riconosciuta da tutti quando disse che potevo posare nuda per un quadro per qualche riccone di hall street quando perse il posto da halley e io vendevo i vestiti e strimpellavo il piano alla casa del caffè farei la figura di quella ninfa al bagno coi capelli tutti giù sì solo che lei è più giovane e io assomiglio un po' a quella sporca puttana di quella sua fotografia spagnola le ninfe avevano forse l'abitudine di passeggiare così sì